Grande colpo messo a punto dalla polizia nel pieno centro fiorentino che ha arrestato l'ex governatore messicano Thomas Garrenton, superlatitante, dal 2012. Il sessantenne, signore della Coca, già governatore dello Stato del Tamaulipas ed esponente del Partito Rivoluzionario Istituzionale, era stato di fatti condannato a due ergassoli per una lunga serie di reati, da associazione per delinquere, traffico internazionale di stupefacenti, frode bancaria, evasione fiscale, fino a false attestazioni in atti destinate alle pubbliche autorità. L'uomo, ricercato in campo internazionale dagli Stati Uniti, avrebbe infatti approfittato delle sue cariche istituzionali, ricoperte a partire dal 1998, per percepire, cospicui tangenti, dai narcotraficanti messicani riconducibili al cosiddetto cartello del Golfo e agevolandoli in cambio nell'esportazione di ingenti quantitativi di cocaina e marijuana negli Stati Uniti d'America. Le complesse indagini, che hanno poi portato all'incredibile cattura, proprio nel quale di Firenze, sono state condotte dal Servizio Centrale Operativo, in collaborazione con la squadra mobile di Cosenza e con il supporto della squadra mobile di Firenze e della Polizia Scientifica, a seguito delle informazioni giunte a febbraio e fornite dal Dipartimento di Massima Sicurezza statunitense. Il congresso del Partito Democratico entra nel vivo. A meno di 20 giorni dal verdetto delle primarie, che stancirà il nome del nuovo segretario del PD, l'ex premier Matteo Renzi, in ticket con Maurizio Martina, prosegue il suo tour in giro per l'Italia, trollei alla mano, per incontrare i cittadini e spiegare la sua mozione. Venerdì nel tardo pomeriggio ha anche una visita nella sua città Firenze, dove al circolo San Bartolo a Cintoia circa 300 persone sono intervenute per ascoltare le sue parole e quelle del ministro dell'Agricoltura Martina. Tra gli aspetti più importanti della mozione Renzi, almeno stando a Roberto Giacchetti, intervenuto invece sabato a Empoli, l'attenzione all'Europa. Tenendo e valorizzando quello che è stato fatto fino adesso, rilancia un programma di riforme che sono assolutamente fondamentali, a cominciare dalla esigenza di cambiare questa nostra Europa, se vogliamo effettivamente che i cittadini europei la sentano loro, come i cittadini italiani sentano loro l'Italia. Pensate semplicemente all'elezione del candidato alla Commissione europea attraverso primarie europee per quanto riguarda il Partito Celeste Europeo, perché ci sono spunti per quanto riguarda un tratto seguente alla riforma del lavoro che abbiamo fatto, pensando a provvedimenti in linea con quella linea di riforma. E poi perché io penso che la leadership di Renzi sia obiettivamente la leadership più forte, così come abbiamo visto nel primo risultato che abbiamo avuto tra gli iscritti. Noi in questo momento abbiamo bisogno di un partito forte, con una leadership rafforzata dal voto popolare. Il 30 aprile Renzi dovrà dunque vedersela con Andrea Orlando e Michele Emiliano, in una sfida che nelle prime fasi ha mobilitato circa 260.000 persone e che prevede per il 30 aprile di portare al voto circa 2 milioni di italiani. Numeri importanti anche per la Toscana, che si riconferma roccaforte di un PD abituato a discutere. Il nostro congresso però non è finito perché ci stiamo impegnando in questi giorni e lo faremo ancor più nelle prossime settimane affinché ci sia alle primarie una partecipazione elevata. Una bella affluenza alle primarie del 30 aprile è ciò che serve per dare il massimo di forza al PD e oggi dare il massimo di forza al PD significa dare forza all'argine più serio e più solido contro la minaccia populista. Lo stop al progetto di SAT dell'autostrada tirrenica tra Livorno e Civitavecchia è contenuto in una manciata di righe della legato al documento di economia e finanza del governo. L'autostrada esce dall'elenco delle infrastrutture prioritarie e ora tornano tutte le possibili alternative, compresa la riqualificazione della strada che già c'è, cioè l'Aurelia. La retromarcia ha accolto di sorpresa tutti, regione toscana compresa, ma il presidente Enrico Rossi che ha parlato con il ministro del Rio e l'assessore alle infrastrutture Ceccarelli hanno ribadito la necessità di un collegamento a quattro corsie sulla costa, autostrada o no. Se il ministro ritiene che ci siano le risorse per poter realizzare questo intervento, ripeto che noi vorremmo a quattro corsie senza la realizzazione dell'autostrada, elimiamo anche la questione relativa al pagamento del pedaggio. Se queste risorse però non ci sono, credo che la Toscana non possa rimanere senza questa infrastruttura. È stato lo stesso assessore a dire che sono già pronti 120 milioni di ANAS per risistemare il tratto di Aurelia tra Rosignano e Grosseto, mentre per quello tra Grosseto e Ansedonia è in corso la revisione del progetto in conferenza dei servizi. Attualmente il progetto che è all'attenzione della conferenza dei servizi e in fase di valutazione di impatto ambientale ha visto molti miglioramenti e molte mitigazioni che sono intervenute nella progettazione, proprio anche ascoltando i suggerimenti e le richieste del territorio. Lo stop all'autostrada ha scatenato l'esultanza delle organizzazioni ambientaliste come Italia Nostra, WWF e Legambiente, da sempre contrario al progetto. Più cauto è il sindaco di Grosseto, Anton Francesco Vivarelli Colonna, che ha detto di voler capire meglio le ragioni della scelta del governo.